Herrolt col permesso del tribunale. Ieri il tribunale ha visto alcune pellicole. Si trattava di film orrendi, di film desolanti. Come tedesco, mi vergogno che tali cose siano potute accadere nel mio paese. Per esse non vi potrà mai essere giustificazione, né per generazioni, né per secoli. Ma io ritengo che sia ingiusto, indecente e terribilmente sleale da parte dell'accusa introdurre quei film in questo caso, in quest'aula, in questa occasione, contro questi imputati. E non protesterò mai abbastanza contro una simile tattica. Cosa vorrebbe dimostrare l'accusa con questo? Vuol forse dimostrare che il popolo tedesco è collettivamente responsabile di quegli eventi? O che ne fosse a conoscenza almeno? Poiché se è così, non afferma il vero e sa di non farlo. La segretezza dell'operazione, la dislocazione geografica dei campi, l'interruzione delle comunicazioni negli ultimi giorni di guerra, quando gli sterminati divennero a milioni, dimostrano anche troppo chiaramente che l'accusa non dice la verità. E la verità è che queste atrocità furono l'opera di pochissimi estremisti, di criminali. Pochissimi tedeschi sapevano cosa stesse accadendo. Pochissimi! Nessuno di noi sapeva che cosa accadesse nei luoghi mostrati in quei film. Nessuno di noi! La più grottesca parte di tutto ciò è che l'accusa si serva di quei film contro questi imputati. Uomini che rimasero al potere per un solo motivo, per impedire che accadessero cose peggiori. Chi è più coraggioso? Colui che scappa o si dimette di fronte al pericolo o colui che resta al suo posto rischiando di pagare di persona? La difesa presenterà testimonianze, lettere e documenti di perseguitati politici e religiosi di tutto il mondo i quali affermano che Janning li salvò dalla pena di morte. La difesa dimostrerà quante volte Ernst Janning riuscì a far mitigare una sentenza quando senza la sua influenza il verdetto sarebbe stato ben peggiore. La difesa dimostrerà che Ernst Janning aveva un medico personale che non era, Ariano, un medico ebreo del quale continuò a servirsi a suo rischio e pericolo. La difesa presenta documenti di magistrati e famosi giuristi di tutto il mondo che impetrano che una speciale considerazione venga applicata in questo caso aggiungendo che tutta l'opera di Janning è stata ispirata da un motivo e un motivo solo il desiderio di preservare la giustizia e il concetto della giustizia. Ora che cosa ha l'accusa da controbattere a tutto ciò? Solo questo. La pubblica accusa infatti ha presentato a carico di Ernst Janning un solo tangibile elemento di prova il caso Felderstein un caso scottante come la difesa ha detto che mai avrebbe dovuto essere riesumato un caso che la difesa è obbligata a riesaminare.